salve a tutti e benvenuti nel rifugio questo video lo so lo guarderemo in cinque ma per completezza sentivo di doverlo fare ovvero oggi andremo a completare la raccolta della prima anzi della seconda espansione perché si chiama così la seconda espansione di fantasy riders ovvero l'invasione dei giganti uscita in italia durante il corso del 2024 e andremo a completarlo grazie all'ordine fatto sul sito della panini queste carte in realtà mi sono arrivate più di un mese fa però ancora adesso ho avuto modo di fare questo video voglio fare questo video perché anche se questa è una serie che ripeto avremo comprato in 10 in in italia e il video lo guarderanno in 5 ma è una serie che io voglio supportare così come ho supportato la prima serie che è uscita un paio anni fa in spagna siamo già alla quarta espansione se non mi ricordo male e questo è proprio un gioco di collezione di carte collezionabili nato dalla filiale spagnola di panini carte che per me sono davvero bellissime hanno degli artwork molto molto belli purtroppo il sistema di gioco è abbastanza fallato oltre che molto basilare però per quando riguarda la collezionabilità è solo il poter ammirare queste carte e con tutti gli effetti vari che hanno e poi al costo che avevano queste carte perché si parla di 1 euro e 50 per 6 carte praticamente la metà di l'orcana adesso è che non voglio paragonarlo all'orcana o magic o pokemon o yugioh però comunque per diciamo i giovani collezionisti nuovi collezionisti ovvero i ragazzini è un buon punto di partenza e spero davvero che possano arrivare anche le successive espansioni quest'anno con questa espansione panini ha permesso di effettuare gli ordini delle carte mancanti mentre due anni fa con la prima espansione che vediamo qui ovvero la prima serie eccola qua non c'era questa possibilità infatti per completarlo ho dovuto fare un po di scambi mentre con questa abbiamo la facilità di poter ordinare le carte direttamente dal sito panini quindi andiamo a cambiare inquadratura e vediamo appunto le carte che mancavano andiamo a completare questo raccoglitore eccoci qui dunque con fantasy riders l'invasione dei giganti e andiamo a vedere ciò che mi è arrivato con diciamo l'ordine la spedizione possiamo vedere tutte le carte mancanti e mi è arrivata anche una card limited ogni volta che si fa un ordine online sul sito panini danno questa card limited che fa parte di se non sbaglio 8 carte o 10 adesso non ricordo che alcune erano presenti sui i multi pack in cartoncino che si compravano nei vari centri commerciali nei tabacchi praticamente erano dei cartoncini con quattro bustine all'interno o tre bustine all'interno adesso non ricordo e in più appunto c'erano altre uscite con gli acquisti fatti sul sito panini oppure in fumetteria possiamo vedere che le ho messe tutte le ho inserite che sono delle varianti possiamo vedere sul retro questa è la numero 3 teocrate degli alfi oscuri e c'è la sua versione limited quindi in realtà le ho già questa è una è una doppia se non anche tripla potremmo dire quindi andiamo a vedere le carte sono abbastanza ne sono un bel po in realtà ho fatto due ordini per completare il tutto perché altrimenti non ce l'avrei fatta ho acquistato due box per completare tutta la collezione due box più innumerevoli multi pack quelli piccolini come detto in precedenza e due ordini più o meno di questo numerico di carte fatto sul sito della panini quindi andiamo a vedere se sono più o meno tutte in ordine così le andiamo a completare vediamo dalla dalla prima che è la numero 211 adesso non so se saranno in ordine o meno sì 229 quindi penso di sì perché infatti avevo fatto un primo ordine ed ero arrivato più o meno a metà album possiamo ammirare ragazzi tutta la bellezza di questi artwork poi c'è la particolarità che hanno il dorso diverso per ogni tribù abbiamo tutte le tribù in questo caso vediamo gli elfi oscuri abbiamo gli elfi che anzi tutti i personaggi che si suddividono in rider cavalcature e appunto i rider che cavalcano le loro cavalcature questa cosa è stata un po' presa in giro ricordo una live di Dario Moccia che prendeva in giro appunto queste queste carte però io devo dirvi che per quanto possa essere infantile no la lore del sistema di gioco e anche sistema di gioco stesso senza soffermarsi a queste cose solo per quanto riguarda la collezionabilità se andiamo a guardare solo la collezionabilità ragazzi guardate che artwork bellissimi e poi anche gli effetti delle varie carte particolari come abbiamo le titanio le acciaio oppure le bronzo argento ed oro sono davvero belle e anche le carte quelle più semplici hanno questo diciamo questo tipo di stampa un po' opaco un po' lucido che fanno degli effetti particolari quando li si mette appunto in controluce quindi anche le carte normali sono davvero belle e quindi che dire ragazzi per me è una una collezione davvero validissima non varrà nulla a livello economico sicuramente non varrà nulla però per il mio piacere personale anche da amante del fantasy e visto che alternative di carte fantasy sono solo magic che costano un occhio della testa io sono contentissimo di aver fatto questa collezione ripeto purtroppo in italia non non è andata molto bene ma secondo me principalmente perché non hanno osato con il marketing hanno fatto solo delle pubblicità su youtube davvero schifose se dir poco con veramente un doppiaggio stile cartone animato che veramente sembra fatto semplicemente per i bambini ma alla fine non è così perché non è un prodotto solo per bambini guardate che belli i dinobot dei technomaghi ragazzi cioè sono bellissime queste carte io veramente l'unica cosa che mi spiego ecco qua possiamo vedere anche la carta dei neobarbari che è uscita anche che mi hanno regalato adesso ripeto secondo me il motivo per il quale non ha avuto molto successo questa questa serie è data dal fatto che non è stata pubblicizzata per nulla bene già pensando alle carte monster del reumoccia che lui stesso pubblicizza pubblicizzato sui suoi social hanno avuto un successo che sono andate sold out ecco in questo caso siccome queste non sono fatte da personaggi famose queste carte ma sono fatte solo dalla panini io avrei pubblicizzato il tutto un po' di più delle pubblicità anche su sul topolino sarebbero state gradite invece zero specialmente perché appunto erano rivolte per un pubblico più piccolo abbiamo messo la 211 e adesso proseguiamo con la 229 vediamo arcinia dei mistici e quindi che dire ragazzi io se fossi stato in panini avrei creduto un po' di più a questo progetto anche perché in spagna sono andate davvero molto molto forti ragazzi sono andate benissimo queste carte dato che hanno fatto quattro espansioni perché in italia no perché non sono state pubblicizzate per nulla la prima serie ancora ancora un pochettino è stata pubblicizzata ma la seconda ragazzi proprio per nulla solo su anteprima ho visto delle pubblicità e basta è uscito il secondo trailer su youtube praticamente poi niente lo zero assoluto mentre poi c'è anche da considerare ecco che per la prima serie fecero anche a livello pubblicitario delle bustine gratuite da distribuire nelle scuole e qui c'è la classica mossa all'italiana potremmo dire perché ho visto poi sui vari siti di vendita come ebay subito o vintage che venivano vendute a prezzi stracciatissimi si parla di 50 centesimi a bustina queste bustine che erano però indirizzate alle scuole evidentemente c'è qualcuno che lavora nelle scuole che ha ricevuto questi questi scatoloni promozionali con all'interno le bustine addirittura le team box quelle di metallo ragazzi anche quelle davano gratuitamente però evidentemente le scuole non saranno finiti non saranno arrivati perché perché c'è questa gente che ha avuto modo di arrivare prima a questi prodotti gratuiti e li hanno fatti sparire per poi metterli nel mercato secondario del mercato dell'usato svendendoli e quindi creando non solo un danno pubblicitario a panini che non ha potuto perché questo appunto era pubblicità non ha potuto panini portare questo prodotto ai giovani ai ragazzini che frequentano le scuole appunto che vanno ancora a scuola ma hanno avuto un ulteriore danno perché i collezionisti adulti che hanno comprato fantasy riders praticamente poi invece che comprare il prodotto ufficialmente da panini è andata a comprarlo da questi bagarini praticamente però in questo senso i bagarini invece di fare prezzi più alti hanno fatto dei prezzi stracciati perché comunque chi li ha venduti già solo di che guadagnato perché non ha speso nulla per riceverli questa cosa veramente mi ha dato molto molto fastidio mi ero già iscritto a qualche gruppo facebook per fare appunto scambi su queste carte e vedevo che anche molti utenti approfittavano di queste inserzioni inserzioni di cui appunto non ho mai usufruito perché avevo supportato fin dal principio questo progetto e invece vediamo come molti pur di completare la collezione a pochissimo prezzo ma ragazzi ripetiamo un euro e cinquanta una bustina con sei carte è davvero pochissimo perché stiamo parlando di card quindi non di figurine quindi sono più spesse c'è più carta e praticamente che dire non hanno voluto diciamo supportare chi ha acquistato per via traverse queste carte il prodotto e quindi questa cosa unita al marketing fallimentare appunto poco marketing effettuato più danneggiamento del marketing stesso da parte di coloro che hanno ricevuto queste carte promozionali questi queste bustine e team box promozionali hanno fatto sì che fantasy riders non attecchisse in italia davvero per me è un dispiacere guardate che belli questi artwork ragazzi sono qualcosa di bellissimo la strige degli antivite poi abbiamo anche la descrizione ecco questo è il sistema di gioco questa è una carta mega con quattro d'attacco e tre di difesa il sistema se fosse stato studiato bene può darsi che avrebbe avuto è un sbagliato alloggiamento avrebbe avuto sicuramente anche un sistema ludico interessante perché abbiamo le forme dei vari mostri delle varie cavalcature dei vari eroi o anti eroi micro medius e mega però non c'è mai stato spiegato se noi potevamo giocare direttamente la carta mega oppure mettere prima la carta micro e poi con i passaggi successivi con i pescaggi successivi dal mazzo poter evocare anche le versioni più potenti non ci è stato spiegato nella terza espansione quella dedicata ai draghi che uscita solo in in spagna c'è un accenno a un regolamento diciamo più evoluto però ancora in italia non è arrivato nulla di ufficiale ecco qua abbiamo le le carte degli erranti che sono tutti questi mostri guardate che bella questa è la carta platino con questo effetto diciamo olografico che possiamo vedere oppure lenticolare ecco bellissima le carte platino le carte titanio le carte leggendarie che esordiscono con questa espansione hanno questi effetti particolari guardate che bello il gigante di fuoco mega che è leggendario guardate che spettacolo e io ho imbustato solo le leggendarie ecco forse le platino in questo caso questa qui la dovrei imbustare ecco quindi ritiriamola furi e la imbustiamo grazie alle mie sleeve che utilizzo anche per l'orcana formato standard possiamo vedere così almeno diciamo quelle più tra virgolette rare che hanno un pull rate più basso sono più protette comunque mentre io sto parlando ragazzi date ancora un'occhiata a questi artwork perché sono davvero bellissimi guardate il gigante di pietra questa è la versione micro e poi abbiamo le versioni medius e mega purtroppo ragazzi ripeto per me è davvero un peccato che non abbia avuto il successo sperato questa serie spero davvero che questa serie vada a continuare cioè che esca anche l'espansione sui draghi che ho visto dei video in spagna che sono usciti già 3 4 anni fa se non sbaglio l'espansione dei draghi è qualcosa di fenomenale l'espansione sui draghi e poi è uscita ancora un'altra che adesso non ricordo come si chiama appunto che è l'ultima attualmente guardate che bella questa leggendaria etin mega e quindi davvero io spero che le altre due espansioni escano ancora in italia che facciano un po più di pubblicità guardate questa platino questo orco platino la pubblicità deve essere fatto in maniera più intelligente ormai abbiamo i social ragazzi abbiamo i social anche i canali youtube tra virgolette ho fatto io pubblicità nel mio piccolo e ovviamente con il mio poco seguito però io e altri youtuber altri content creator che hanno portato fantasy riders su youtube hanno contribuito a portare diciamo avanti ecco la la popolarità tra virgolette di questa serie che non è appunto popolare guardate bello il troll platino non è popolarissima però ripeto per gli amanti del fantasy ragazzi per gli amanti delle carte dei giochi di carte collezionabili che però appunto non non vogliono non possono spendere un patrimonio per le carte di magic che poi a parte che a magic ne esce un'espansione al mese almeno in questo caso abbiamo un'espansione ogni due anni no in questo caso in italia ogni due anni adesso non mi ricordo in spagna dopo quanto tempo sono uscite però ragazzi guardate un'altra platino se dovesse uscire una serie sui sui draghi io spero che che venga acquistata da più persone possibili e che non facciano l'errore di rimettere materiale gratuito perché tanto poi verrà rubato perché questo di questo si tratta verrà rubato da chi riesce a metterci le mani per poi poterlo vendere svendere sul mercato dell'usato guardate che belli questi mostri abbiamo i colossi gli ioni che sono degli spiriti giapponesi la medusa quindi abbiamo mostri che vengono presi da varie mitologie guardate il tirannosauro questo qui è il mostro classico non è il tirannosauro però abbiamo davvero una vasta scelta ecco con questa carta il tirannosauro medius siamo andati a completare in questo caso perché abbiamo 396 carte siamo andati a completare la collezione ragazzi meno male sono contentissimo ho speso davvero poco per aver completato questa collezione rispetto a quanto spendo perché io adoro anche un altro gioco di carte collezionabili ovvero l'orcana della disney di ravesburger l'orcana ha un sistema di gioco anch'esso abbastanza semplice non semplice come fantasy riders però semplice ma davvero bello da giocare io e mia moglie andiamo matti sia a livello di gioco ma anche a livello collezionistico perché appunto da amanti io dei fumetti disney e lei dei film disney vabbè li amo anch'io i film disney tutti i classici disney insomma acquistiamo l'orcana regolarmente qui possiamo vedere già delle carte con cui ci dovremo costruire i nostri mazzi l'orcana è un gioco di carte davvero molto bello però se andiamo a guardare gli artwork ok sono belli ma se andiamo a fare giusto un confronto ecco con le carte più più scarse di fantasy riders ok quelle che non presentano effetti olografici guardate la differenza già la grammatura già io che voi non la potete sentire ma io lo sento già dal tatto è molto più spessa la carta di fantasy riders guardate gli artwork che belli guardate l'effetto che si crea con diciamo l'effetto di stampa opaco e lucido che con i riflessi della luce andiamo a notare mentre qui non abbiamo nulla qui abbiamo solo la carta semplice è la versione foil della carta qui ci sono le carte incantate l'enchanted che quelle hanno degli effetti spettacolari ma ne escono una ogni quattro box noi invece qui con fantasy riders siccome non abbiamo versioni tra virgolette parallel a parte quelle che vi ho mostrato le 10 limite che sono qui presenti che comunque sono fuori collezione qui abbiamo 3b possiamo notare 3 3b noi abbiamo una collezione completa possiamo ammirare tutti gli effetti grafici di tutte le carte appunto non dobbiamo sperare che ci esca la carta super rara è vero che a livello puramente economico e collezionistico queste carte non varranno nulla ma a livello ragazzi di bellezza di ammirazione degli artwork io ripeto tutti gli amanti del fantasy secondo me si innamorerebbero di questi artwork perché sono davvero bellissimi facciamo giusto una carrellata finale per mostrarvi le carte voglio farvi vedere giusto le carte dei tecnomaghi ne tiro fuori una tiriamo fuori il dinobot mega dei tecnomaghi per farvi vedere l'effetto guardate questo effetto tipo circuito stampato non so se riuscite a scorgerlo io lo vedo molto molto bene e ogni tribù ha il suo effetto particolare sulle carte questa è una carta di tecnomaghi guardate pure il retro se noi andiamo a guardare un'altra tribù vedremo che avrà un altro tipo di come si dice di layout di trama di motivo sulla sua carta possiamo vedere ecco che se andiamo a muovere un po in controluce la carta vediamo che la carta dei mistici possiede un'altra tipologia di disegno e così via ragazzi per tutte le tutte le varie tribù che esistono in questo gioco di carte in questa seconda espansione vediamo che ne sono uscite altre di tribù vi rimando ai miei video precedenti se volete saperne di più che dire se un minimo queste carte vi hanno colpito io vi consiglio di acquistarle anche perché sul sito della panini ok in edicola non ne troverete più penso perché sono uscite ormai diversi mesi fa penso a marzo aprile ma sul sito della panini si vendono ancora i box completi quindi se voi comprate ok due non credo perché io che ne ho comprati due però ho comprato anche i multi pack se voi comprate almeno tre box di fantasy riders penso che dovreste potreste completare la collezione con tre box e poi con la rimanenza delle carte che vi mancherebbero poterle acquistare singolarmente dal sito panini quindi che dire ragazzi spero davvero vivamente che possa uscire anche la terza espansione dedicata ai draghi l'ascesa dei draghi se non mi sbaglio si dovrebbe chiamare fatemi sapere se qualcuno di voi conosce questo gioco di carte collezionabili se così non fosse spero di avervi portato qualcosa di lieto da ammirare e chissà forse ho fatto venire voglia di acquistarli fatemelo sapere nei commenti io con questo vi saluto e ci vediamo al prossimo video ciao ciao